Cittadini di Catanzaro Il fine ultimo è quello di riuscire a creare le condizioni affinché gli utenti possano accedere direttamente ai servizi predisposti dal comune di Catanzaro, all'amministrazione comunale di Catanzaro, attraverso il portale del sito internet. Sono intervenuti all'incontro anche l'assessore del patrimonio Filippo Mancuso ed il vice comandante della polizia locale Amedeo Cardamone in rappresentanza dei settori che per primi sono stati interessati dalle nuove procedure telematiche per la richiesta di occupazione di suolo pubblico ed il rilascio di pass per la sossa nelle strisce blu. La giornata odierna vede sia la presentazione di questo nuovo progetto sia, come nostra specifica intenzione, una simulazione direttamente attraverso il portale per fare in modo che si possa avere già un concreto riscontro rispetto a quello che è l'attività che si andrà a svolgere e che gli utenti potranno svolgere direttamente. Quindi in questa sede qualunque tipo di richiesta o di dubbio potrà essere oggetto di chiarimenti attraverso gli organismi proposti.